Presidente, ci sono novità in vista dell'estate ormai imminente, l'aeroporto d'Abruzzo è pronto a prendere il volo, come si suol dire, per un'estate davvero da grandi numeri. È partita un'importante stagione Summer 2022, vantiamo 19 destinazioni collegate, da questa settimana ripartono anche i collegamenti per Catania e Cagliari operati da Volotea e possiamo anche vantare il maggior numero di frequenze della storia dell'aeroporto appunto a partire dalla Summer 2022. I dati cominciano ad essere incoraggianti, a partire dalla settimana di Pasqua cominciamo ad avere importanti numeri, anche le due nuove rotte Manchester e Memmingen cominciano ad avere numeri positivi, soprattutto la rotta di Manchester genera un buon flusso di incoming che si ripercuote sull'intero territorio, girando per l'Abruzzo anch'io avverto la presenza di molti turisti inglesi, il che fa piacere all'intera comunità. Posso constatare di persone che il flusso di passeggeri che genera un'infrastruttura del genere, dopodiché si ripercuote sull'intero territorio e ne beneficia l'intera regione Abruzzo. A tal proposito, un importante passo in avanti per l'allungamento della pista che è partito nel 2010, lo abbiamo ottenuto circa una settimana fa, è arrivato il parere definitivo da parte dell'Enac con la conclusione della conferenza di servizi con oltre 20 attori seduti intorno a un tavolo che hanno rilasciato tutti i pareri positivi ed oggi finalmente possiamo bandire la gara per l'allungamento della pista. Quando partiranno i lavori? Conoscendo i tempi della pubblica amministrazione e anche i tempi che hanno percorso gli ultimi dieci anni, direi che dobbiamo prendere come timing finale il 31 dicembre 2023, sperando di fare naturalmente prima.